L'annuncio serio rivolto a tutte le ragazze del pianeta Terra Lavoro 22 anni e entro i 25 anni voglio riuscire a procreare Quindi d'ora in poi ho 3 anni per trovare la donna giusta e procreare Ovviamente non miro a riuscire a trovare la donna giusta su Instagram Sto solo provando a piantare il seme prima di piantare il seme Fisicamente avrei la possibilità di fare 300 figli l'anno, anche 500 Però è complicato, diventerebbe un lavoro proprio anche un po' rischioso Quindi per ora mi concentro seriamente sul trovarne 1, 2, 3 Grazie a tutti! la vagina si compiono le grandi labbra e le piccole labbra si compiono la pulsazione ma le grandi labbra sono quelle sono l'esterno la parte esterna le piccole labbra sono quelle interne